Carissimi amici, arriva Autopanile YouTube e oggi torniamo su The Theft Wars perché c'è stato un nuovo aggiornamento Hanno giunto finalmente le decorazioni di Natale, vai! Quindi proveremo questo nuovo aggiornamento insieme, ma vorrei soltanto dire una cosa Cari sviluppatori, se volete fare gli aggiornamenti di Natale, ma fateli prima di Natale, no? No, no, seriamente, ma anche altri giochi si sono aggiornati dopo Natale con l'aggiornamento di Natale Ma perché? Vabbè, lasciamo perdere, ma partiamo subito in partita Come sempre siete qui sotto tantissimi like Mi raccomando lasciate più like possibili per aiutarmi a supportare la serie E se vi piacciono questi tipi di giochi, questi tipi di video, iscrivetevi al canale, attivate la camprellina Anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni Ogni giorno c'è sempre un nuovo video, alle 18.20 Partiamo subito, cominciamo, facciamo single player E andiamo qua ad esplorare le novità dell'aggiornamento di Natale Sì, che bello! Tutto quanto è nevato è diventato, tutto quanto con la neve E se lo vedrete tutto qua in partita Ed eccoci qua, siamo nella casa di Rich Ci apri quella partita, sì, la partita, la porta, volevo dire No, vabbè, ma è bellissimo, guardate Tutto quanto addobbato di Natale Tutto quanto di Natale Vediamo se ho qualcosa di nuovo qua Ok, ho la pistola, no, vabbè Le palle di neve Ma cosa? Ma è bellissimo Posso rompere i vetri qua come quell'altro gioco tipo Dude Simulator? No, non me lo fa rompere il vetro, peccato Posso rompere le macchine? Così? Ah, le persone lancio le palle di neve In faccia, non me le lancio più Non mi lancio più le palle di neve Ma che? Ma si è bloccato Così? Ok, me lo fa fare Così? Mi sa che ho finito le palle di neve Ma perché mi dice il limitato? Ma non ne ho più Ma non mi dite che ce le ho illimitate Se poi non me le fa più tirare Non me le fa tirare Ma che roba, ma che roba Vabbè, riavvio un'altra partita Magari adesso me lo metto Ma dai, non mi faceva più tirare le palle di neve O si è pagato il gioco Oppure non lo so Vabbè, su Ritorniamo qua in partita Velocemente Riprendiamo qua le palle di neve No, no Apri la porta Non lanciare palle di neve a caso Che già a quanto pare Si arriva ad un certo numero E poi non me le fa più lanciare Quindi aspettiamo qua Che sbuchi qualche amichetto Che spawni qualcuno Su, c'è qualcuno qua Ma non c'è nessuno Non ci stanno persone Ma che? Si sono tutti rintanati a casa Tutti a casa rintanati Sono rimasti Non sbuca nessuno Dove stanno gli altri? Ma non sta più sbucando nessuno Neanche un pedone Un niente di niente Che poi invece Quando cammino con la macchina Mi sbucano in mezzo alla strada I pedoni spawnano in mezzo alla strada Ok, andiamo di qua Veloci, veloci, veloci Andiamo verso la città Sicuramente lì c'è qualcuno Sicuramente lì troveremo qualcuno Eh sì, perché lì gira sempre gente Quindi Se non li trovo in città Dove li posso trovare? Ciao amichetto Ti lancio una palla di neve in faccia Cosa? Ma dov'è? Ma avete visto? Ha fatto la capriola Ha fatto la capriola Ma dai Non si prende così Non riesco a prenderlo Aspettate Qui c'è un altro amichetto Ma no Ma dove andate? Dove andate? Ma perché? Ma perché? Una palla di neve vorrei lanciare Vorrei colpire qualcuno Con una palla di neve Non è che vorrei fare chissà che cosa Ma se questi se ne scappano via Tu amichetto Tu non ti muovere Non ti muovere Lancia Ma cosa? Ma dai Neanche il tempo di lanciarla Ma dove va? Ma cosa? Ma dai Ma sta passando in mezzo Sta passando in mezzo Possibile che qui nessuno Vuole ricevere palle di neve in faccia? Possibile che qua nessuno? Tu prendi qua Prendi qua Prendi qua E che roba E che roba Prendi Cosa? Non si fanno niente Non si fanno niente Ho finito le palle di neve Le ho finite Vabbè Mi prendo a chitarrate A chitarrate mi prendo Buon Natale amichetti Buon Natale anche a te Ma cosa? Beh bellissimo Bellissimo Raccogli qua Raccogli qua Veloci 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 Tutto quanto tema natalizio comunque L'hanno adobato veramente molto molto bene Vediamo qui invece che cosa c'è Devo nel dude mart Magari c'è qualcosa di interessante Qualcosa di utile Però queste palle di neve E che mi dice che sono infinite E poi non me le fa più lanciare Guardate Non le fa più lanciare Tocco quel pulsante Ma faccio pure vedere qua Non succede niente Non succede niente Ma dai E meno male che sono illimitate Ste palle di neve E meno male E che roba Pensate se fossero state limitate Le avrei già finite dopo la prima lanciata Andiamo qui sopra Andiamo 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 col carrello Andiamo ad esplorare un po' in giro Vediamo invece tipo non so Il quartiere di Charlie come è diventato Volevo dire di Charlie Eh vabbè Il quartiere di Jack La Jack Street Vediamo come è diventata Veloci 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 Magari casa di Jack è stata addobbata No vabbè ma c'è pure il parco giochi di là Dobbiamo pure passare al parco giochi Sì però adesso Mettiti bene Mettiti bene Che dobbiamo andare qua nella Jack Street Entra qua dentro La casa di Jack Come è diventata Ah boh Sì è rimasto un po' così Un po' addobbata lo è Ci hanno messo l'amichetto pupazzo di neve L'amichetto pupazzo di neve Tutto quanto squadrato E tutta quanta la casa addobbata per Natale Ma bello Ma pure l'albero di Natale c'è Pure l'albero di Natale Ottimo Ottimo Vabbè direi di muovermi adesso qua con la macchina Anziché col carrello Perché mettermi a fare un tour per la città Con il carrello Non è proprio il massimo Andiamo 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 Vediamo qui invece Su però Guidati bene macchina Guidati bene Vediamo qui Ma cosa Ma guidati bene Ma sto guidando proprio veramente Nel peggiore dei modi Ma dai Ma cosa Ma sta macchina veramente ha dei seri problemi Ha dei seri problemi sta macchina a guidarsi Vediamo qui invece Allora ferma qua Frena 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 Vediamo come è diventato qua il municipio Va Vediamo se hanno aggiunto qualcosa Perché questo È un posto in fase di costruzione E no Non c'è niente Tutto quanto particolare Tutto quanto così Cioè Particolare più o meno È tutto rimasto uguale Non è cambiato più di tanto E dai Andiamo a vedere allora quel parco giochi Almeno questo avranno fatto a tema natalizio Beh sì Qualcosina sì Qualcosina a tema di Natale c'è Vabbè la ruota panoramica Quella c'è sempre 365 giorni all'anno 24 ore al giorno È sempre attiva quella ruota panoramica E non si ferma mai Mai che l'avessi vista fermo una volta per tutte Aspettate ci penso io Va Prendi questa ruota panoramica Vediamo se succede Sì Vabbè Non l'ho neanche mirata bene Prendi qua Prendi qua Tanto non ci sta nessuno di sopra Cioè gira a vuoto Non c'è nessuno su quella ruota Non ci sta nessuno Ma dai Allora Vediamo qui invece Qui intorno Se c'è qualcosa Vabbè mettiamo Le mani così Almeno non posso colpire nessuno Per sbaglio E sì perché io alcune volte Il brutto vizio di toccare Il pulsante per colpire Anche quando ho l'arma addosso Quindi almeno così Vado tranquillo Non colpisco nessuno E cammino come se non la fosse Vediamo qui invece Se c'è qualcosa Dentro la banca La banca di Natale È diventata in qualche modo No È rimasto uguale È rimasto uguale Sta banca di Natale No Peccato No no Aspettate Stavo per scendere Da qua Vi ero dimenticato Che qui c'è il danno da caduta Quindi meglio non scendere Troppo frettolosamente Come stavo per fare Mi devo da questo lato Invece dove c'è l'albergo Anzi Quello è un albergo molto particolare Perché lì Si trova l'antenna Per comunicare con gli alieni Quindi bisogna fare molta attenzione Quando si arriva da quelle parti Perché in realtà Lì non c'è un albergo Che ci sta aspettando C'è un laboratorio segreto Che magari vorrà fare Qualche esperimento cattivo Con gli alieni Oppure Con le persone Non lo so Lasciamo perdere Andiamo 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 Qui invece c'è qualcosa Da questo lato Proviamo a vedere E no Qua non c'è niente Si vabbè C'è l'hotel Quello di prima Andiamo Invece questa volta Vorrei vedere la palestra Però facciamo una cosa Visto che qua Vado un po' così a relento Direi di mettermi il dude bolt Ok Così almeno posso anche Correre più velocemente No Perché comunque Camminando normalmente Ci metto una vita Poi La palestra è diventata In qualche modo particolare No È rimasto uguale È rimasto uguale La palestra Tutta così Ma cosa Invece da questa parte No Proviamo a vedere qua L'albero di Natale Che c'è qui Beh Un bel albero di Natale L'hanno messo vicini Un grande albero di Natale Ma qui guardate La casa di Kirill Guardate Kirill Come è diventato Anche lui si prepara Al Natale Aspettate Ma cosa c'è un albero Proprio appena davanti All'altro albero Ma perché È dentro casa invece No la casa è rimasta normale Non è cambiata Dietro invece c'è qualcosa di Natale E no Non hanno aggiunto nulla A tema natalizio Niente di niente I vicini invece sì Hanno messo gli alberi di Natale Ma che bello Beh devo dire che qua Ci sarebbe ancora Tanto da esplorare Quindi direi di fare una cosa Prendiamo No non il taxi Prendiamo la prima macchina Che trovo E andiamo a vedere Almeno l'altra isola Ah boh C'è la macchina Che avevo lasciato prima Che sta di qua Quindi sali qui sopra E vediamo come è diventato L'aeroporto A tema natalizio Poi magari più avanti Facciamo anche gli altri video Dove esploriamo le altre parti Che non abbiamo ancora visto Di due theft wars Nuovo aggiornamento Vai di qua Ma che Ma la neve sembra che si stia per sciogliere Sta diventando sempre più verde sta neve Ma si sta sciogliendo la neve Ma cosa L'aggiornamento sta svanendo così in real life No no sta macchina Ma perché Ma perché non si guidano bene le macchine Ma perché fanno le macchine Che si guidano malissimo E perché vedo qualcosa a volare Lì in mezzo al ponte Su vai di qua Ma perché ti metti a slittare Ma come ci sono arrivati in un rettilineo Ma toglietevi di mezzo Toglietevi di mezzo Che il buon panino deve passare Che deve vedere come è diventato un aeroporto Veramente qua è un'impresa muoversi Con la macchina Ma dai Ma dai E vabbè però E vabbè Ma lasciami andare Lasciami andare Mi stava trascinando con sé Mi stava trascinando Ma ci ho messo una vita soltanto a passare sto ponte Più tempo a fare sto ponte Che a girarmi l'intera città Momenti Ma dai Allora Vediamo l'aeroporto Se è diventato in qualche modo Se è cambiato Se vabbè E non si muove sta macchina Appena faccio una leggera curva Si mette a sgommare Si mette a sgommare Come non so che cosa Ma dai No l'aeroporto a quanto pare è rimasto uguale Non è cambiato più di tanto È rimasto uguale Su vabbè Lasciamo perdere Sentite Io vado a cambiarmi macchina Non ce la faccio più a guidare sta macchina Non ce la faccio più a guidare sta macchina Non ce la faccio più a guidare sta macchina Non ce la faccio più a guidare sta macchina Show Sparisci dalla mia vista Prendiamo sta macchina qua Che sembra un po' più carina Oh Finalmente Questa si che è una signora macchina Come si deve Questa si che è una signora macchina Togliti di mezzo Te invece Quel catorcio E ho un catorcio di macchina Quello Andiamo di qua Prima di esplorare quest'altro lato E vabbè E vabbè E saltiamo così come se nulla fosse Anzi no Non andiamo di là La parte della fabbrica La lasciamo dopo Perché adesso voglio vedere pure Come è diventata la montagna Sempre se ci arrivo Sempre che Se ci arrivo Ma che Ma in questo aggiornamento Hanno rovinato tutte quante le macchine Le hanno rovinate tutte Ma possibile che più nessuna macchina Si guida come si deve Possibile Adesso Vabbè sentite il ponte Non lo prendo Non lo prendo Cammino di qua Cammino in mezzo al mare Tanto faccio prima Faccio prima Sì vabbè E muoviti però macchina Muoviti E andiamo a vedere come è diventata la montagna Sì Di corsa Di corsa Vedi qua Vedi qua Veloci 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 Ok Stiamo facendo un bel salto Un bel volo Andiamo allora verso la montagna Dritti per dritti Spero soltanto di non perdermi Ma cosa Mi è comparsa la città così dal nulla Mi è spavonata la visione Ma dai aiuto In mezzo così Ma cosa Ho distrutto mezzo mondo E poi una panchina mi ha bloccato in quel modo Dai su Ce l'abbiamo quasi fatta Ce l'abbiamo quasi fatta No seriamente Riuscire a guidare all'interno di questo gioco È un'impresa È un'impresa Ma dai Allora andiamo 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 Eccola qua la montagna La montagna tutta innevata No magari Ma che No seriamente Sembra che la neve si sia sciolta Perché io qua non vedo più la neve È diventato tutto verde È diventato tutto verde Vabbè Facciamo una cosa Ma Visto che qua c'è ancora Tanta roba da vedere Direi che la lasciamo per un prossimo video Mi fermo soltanto con quella macchina Se no Non posso farla a fine Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Prima con la spallicciata Che diventate Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Vi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buon giornata Buon giornata Buon giornata Buon giornata Buon giornata